Grazie Presidente, in questi giorni con la proposta di riferimento della tutela dell'ambiente in Costituzione abbiamo assistito a un dibattito che ci ha riportato indietro nel tempo e non poteva essere diversamente, del resto l'anniversario del 2 giugno è passato solo pochi giorni fa, una data importante non solo perché è la festa della Repubblica, ma tra le tante altre cose è anche il giorno del voto dell'elezione dell'Assemblea Costituente, che avrebbe dato vita alla Costituzione, quella Costituzione che secondo molti e a mio avviso hanno ragione è la più bella del mondo, un capolavoro di equilibrio tra passioni, idee, valori contrastanti, arrivato dopo un periodo dilaniante, durato anni, come solo una guerra civile può essere. Ecco, dovremmo avere sempre presente che questo è il contesto in cui ci muoviamo e a questo contesto vanno ricondotte non solo le dichiarazioni di questi giorni, ma anche la fase preparatoria che nelle ultime settimane ha visto susseguirsi i fugi in avanti, frenate, anche da parte nostra, ma come abbiamo cercato di spiegare era dettato dalla volontà di non commettere errori su un passaggio tanto fondamentale e il risultato di oggi dice che la strada che abbiamo intrapreso è quella giusta. Ieri la collega Maiorino, in qualità di relatrice, ha saputo spiegarlo perfettamente in una frase che vorrei ritiamare qui oggi. È necessario, diceva, completare il processo e dare senza mediazioni interpretative una chiara dimensione ambientale alla nostra Costituzione, in linea con l'evoluzione di una sensibilità che si è fondata sulla necessità di preservare il contesto naturale nel quale viviamo e di cui siamo parte. Detto questo, permettetemi di essere concreto e diretto, non possono esserci però trionfalismi né eccessivi festeggiamenti per quanto importante questo non è un punto d'arrivo, ma è un punto di partenza. Tutti i colleghi che sono intervenuti in un modo o nell'altro l'hanno sottolineato. Un conto è riconoscere un principio fondamentale, un conto è dargli attuazione. Peraltro è la prima volta, lo ricordava il collega Ferrazzi, che ciò avviene. Allora permettetemi una digressione che non riguarda l'ambiente ma che ha lo stesso significato. Cito Bertini, forse uno dei presidenti più amati della nostra storia, che parlava di libertà. Lui diceva che la libertà da sola non bastava perché diceva un cittadino libero ma senza sostegno, senza possibilità di realizzarsi, senza lavoro, è un cittadino che è libero solo di imprecare e di morire di fame. Questo vale anche per l'ambiente. È di questi giorni, ad esempio, l'intervento, il richiamo forte del Presidente della Repubblica relativamente alla tutela del paesaggio. Giusto semplificare ma non deregolamentare. Si riferiva in particolare al tema degli impianti fotovoltaici e dei campi eolici, perché è inutile inseguire una risposta seria, concreta, coerente in termini, ad esempio, di energie rinnovabili e poi per quelle energie rinnovabili fare scempio del paesaggio che forse è il nostro primo patrimonio. Del resto ci sono delle peculiarità del nostro territorio che non possono essere nascoste. Un conto è avere una pala eolica nel nord d'Europa a girare 300 giorni all'anno e un conto è averla qui. E se poi per quella pala eolica si deve sboscare una collina intera per portarci i cavi, non va sicuramente bene. Inutile pensare alla bontà degli impianti fotovoltaici e poi immaginare una follia che a Piandarca è stata richiamata l'enciclica di Papa Francesco, Piandarca, dove San Francesco ha fatto la predica agli uccelli, proporre un impianto fotovoltaico a terra sotto a Sisi. Questa è una follia. Non è la difesa dell'ambiente. Non passa per questo. Orvieto, un territorio bellissimo, può essere difendere l'ambiente un campo fotovoltaico di 40 etari con 75 mila pannelli? Allora non è quella la difesa dell'ambiente. Non si può, da un lato, richiamare la difesa del suolo e poi permettere che si inaridisca coperto per anni da qualcosa che nasconde la sua bellezza. Ecco, queste sono le contraddizioni che dobbiamo superare. Perché è inutile un principio senza la forza e la capacità di renderlo concreto, vitivo attuale. Le contraddizioni che viviamo sono tantissime. Si potrebbe pensare all'acqua. Noi lo riteniamo un bene fondamentale. Ci abbiamo fatto il referendum sull'acqua pubblica, richiamiamo che non è attuato. Poi però lasciamo che in alcune zone d'Italia ci sia il 52% di dispersione idrica, che per portare un litro d'acqua in una casa ne partano due. Per non parlare di quelle zone dove ancora abbiamo la vergogna delle autobotti che devono portare l'acqua. Di quelle zone d'Italia dove ancora non è chiuso il ciclo delle acque e non c'è la possibilità di tutelare il mare perché ci arrivano gli scarichi del mare. Il 30% delle coste del Messinese. Tanto per fare un esempio. Allora da un lato noi richiamiamo l'altro l'altro accordo per inserire una parola in più o in meno in Costituzione e poi lasciamo che accada tutto questo. Ci stracciamo le vesti, piangiamo in aula quando ci sono le tragedie e poi non abbiamo la forza di far partire un disegno di legge sulla pulizia degli albi nei fiumi perché c'è una diversità sul piano ideologico d'approccio. Ci lamentiamo quando avvengono i terremoti e poi ci abbiamo lo scempio, lo schifo di dover trovare 100 milioni oggi dopo il terremoto del 1908 di Messina ma dal terremoto dell'Irpinia oggi. Quante ricostruzioni si sono perse per strada? Quante volte non siamo andati a vedere quello che andava completato e non è stato completato? Queste sono le contraddizioni che dovremmo superare e anche magari realizzare realmente quello che promettiamo. Abbiamo decreti fermi, risorse non utilizzate. Ci diciamo bravi quando scriviamo le cose sulla carta, però non assumiamo la responsabilità poi di tradurle in atti concreti. Questo è quello che serve ora, questo è l'impegno che noi oggi dovremmo assumere. Quello che serve è la volontà, la forza, anche il coraggio di gettare un ponte fra il dire e il fare, tra quello che siamo e quello che potremmo essere. E allora è con questo spirito che la Lega non solo voterà convintamente a favore dell'inserimento e della tutela dell'ambiente in Costituzione, ma si assumerà l'impegno di lavorare concretamente, quotidianamente, da qui e negli anni, per dare realmente attuazione a quello che non può e non deve rimanere solo una dichiarazione di intenti. Grazie.